Da paura, qualche mese fa ho fatto un'intervista dell'RTL 125 dove si parlava di viaggi, in viaggio, in viaggio. Mi riuscola di ricaricarla su YouTube e la carico perché ritengo che sia molto interessante appunto per chi ancora non mi conosce, non conosce il mio passato. 125 News Con le polveri che si aprano le danze come dir si voglia perché qua inizia il World & Travel, lo facciamo nei migliori di modi, dando il buonasera al nostro primo ospite che saluto e ringrazio per essere qua insieme a noi nel World & Travel, Andrea Gallo. Ciao Andrea, come stai? Tutto bene, buonasera a tutti. Grazie a te Andrea per esserti unito qua, intanto iniziamo un po' a conoscerci o meglio a farti conoscere al nostro pubblico, 737 la radiovisione per chi avesse Sky. 233 del Digitale Terrestre per seguire anche questa intervista via audio oppure per portarci sempre con voi la nostra applicazione di RTL 125 Play. Partiamo dalle basi, partiamo da ciò di cui ti occupi possiamo dire, ovvero di viaggi, di organizzazione, di viaggi. L'ultimo è stato in Islanda, ne parleremo tra pochissimo, però quando è nata questa passione Andrea? Allora, questa passione è nata per i viaggi innanzitutto, quindi non ho pensato poi a doverci, tra virgolette, lavorare. Nel 2016, grazie al Cammino di Santiago, ho fatto 900 chilometri a piedi da Saint-Jean-Pied-de-Pau fino a Finisterre, e da lì ho iniziato a capire che il tempo era molto prezioso e quindi occuparlo facendo ciò che in realtà mi appassionava di più. Io facevo un altro lavoro prima, quindi diciamo che conservavo i soldi e appena potevo viaggiavo, viaggiavo per il mondo. Dal 2016 poi fino al 2018 è stato così, uno scappare dal lavoro, conservare i soldi, finché non riuscivo magari a conservarli per un altro grande viaggio. Finché poi dal 2018 mi sono detto, ma voglio farlo, cioè vorrei comunare la passione al lavoro, cercare di farlo proprio come lavoro principale, ecco, il viaggio. Cioè, dal 2018 ci ho provato e adesso sono qui, accompagno i viaggi di gruppo in giro per il mondo, principalmente l'Islanda, dove sono stato un numero di scuola, e niente. Ballo. Niente, cioè insomma, dire niente così, visto che comunque... Allora, a noi mi ha interessato molto il tuo inizio a proposito del... che ti ha flashato il Cammino di Santiago, l'hai fatto per un motivo spirituale o l'hai fatto semplicemente perché ti affascinava quel cammino? Allora, in realtà volevo mettermi alla prova, poi dopo è nato, insomma, come motivo spirituale e stavo affrontando un momento, diciamo, di cambiamento. Nella mia vita è successo un grande evento che mi ha fatto pensare molto e quindi quale è il miglior viaggio del Cammino di Santiago, appunto, per, insomma, restare da solo. Camminando ogni giorno è come una forma di meditazione. Tu ti dimentichi di tutti i problemi, di tutte le cose futili. E quindi entri più in contatto con te stesso, ti ascolti di più e capisci veramente chi sei, cosa vuoi fare nella vita. Sono d'accordo, sono d'accordo. Andrea, tra l'altro lo potremmo approfondire questo nel corso della nostra chiacchierata, ne abbiamo ancora di cose da cui parlare. Tra poco anche le vostre domande al 378 304 125. Nel frattempo, Sophie and the Giants. RTL 125 News 21 e 16 minuti, torniamo in diretta nel World and Travel di RTL 125 News. Un grazie a Mauro Massare, a tutti i colleghi di Autostrade e per l'Italia che puntualmente ci aggiornano sulla situazione in tempo reale di traffico e viabilità sulle nostre strade e autostrade. Qua stiamo parlando di viaggi, lo stiamo facendo insieme al nostro primo ospite di serata, Andrea Gallo. Lo potete trovare sui social, sulle piattaforme come andrea.send. Abbiamo capito il click scattato durante un cammino di Santiago. Lo si legge appunto anche nella tua bio di Instagram, che sei questo pellegrino in viaggio appunto sul cammino di Santiago. Si legge però anche che ami l'Islanda. Parlavamo di questi viaggi che tu organizzi laggiù. Dici un po', dici un po'. Io sono curioso, visto che sei appena rientrato da un viaggio in Islanda. Com'è adesso l'Islanda? Perché io ho in mente il freddo, le aurore boreali. È così anche in questo periodo? Sì, l'Islanda è sempre freddo, quindi se vuoi andarci adesso ti ha portato giù bene, per forza. Bello detto! Detto in francese! Sì, esatto. È giusto. L'amore per l'Islanda mio è nato nel 2016, grazie a un viaggio di gruppo, a cui ho partecipato, che avevo organizzato un ragazzo. E da lì mi sono detto, wow, ci devo sempre tornare. È troppo, troppo bella. E ci sono tornato poi organizzando i viaggi di gruppo. E non mi stanca mai. Io è una cosa che dico pure ai ragazzi che vengono con me, mi dicono, Andrì, ma quante volte sei un'Islanda? Cioè non ti riesco ancora scocciato di vedere questa cascata, di vedere magari un altro posto. Io dico, facciamo una cosa, dimmelo alla fine del viaggio. È vero. E alla fine del viaggio ho capito perché... È giusto, è giusto, Andrea. Tutto molto bello. Al posto di chiederti magari le solite cose che si possono chiedere, ma l'Islanda, ma com'è? Tutte quelle cose, insomma, che si vedono poi sui social, che sono delle cose molto, molto, molto belle. Io volevo chiederti invece delle tue... Visto che hai fatto tanti viaggi, non solamente in Islanda, però l'Islanda, diciamo, è sul tuo focus proprio personale. Volevo chiederti un po' del tuo modo di viaggiare, se sei uno che veramente con poco anche si accontenta, soprattutto se sei uno molto spartano, perché so che in Islanda, al contrario di quanto si possa pensare, non si può, come si dice, camperizzare ovunque, comunque anche solo mettere una tenda ovunque. ci sono pochi posti dediti a questa cosa qua. È giusto, ho detto qualche cavolata, come funziona lì? No, esatto. In Islanda i posti dove vuoi fare i camping sono specifici, non puoi fermarti nella natura dove vuoi. Vabbè, potresti farlo perché alla fine nessuno ti dice niente, però ci sono specifici dove vuoi fare i camping, che sono attrezzati anche con delle docce o comunque con i bagni. E' un'esperienza che fanno stesso gli islandesi d'estate, a cui piace molto, molto farla. In viaggio sono molto, io ho fatto due volte il cammino di Santiago, poi anche, a ora non mi voglio attrezzare, però anche la Via della Seta, sono stato da Shanghai a Roma senza aerei. Che figata. Ho fatto dei tipi di viaggi che sono, dove veramente devi avere l'attitudine, devi adattare molto, quindi io mi adatto tranquillamente a tutte le situazioni, sono spartano, come hai detto tu, però in Islanda ti sta bene. In Islanda puoi appunto fare dei camping in posti che sono spettacolari, dove non è tanto il comfort della tenda, ma è dove veramente ti accampi e che fa la differenza. Magari ti svegli la mattina a fianco di una delle cascate più belle del mondo. Eh certo, ti invidiamo, guarda, in questo momento penso che metà delle persone all'ascolto vorrebbero partire insieme con te in Islanda, perché le altre metà invece temono il freddo e quindi magari rimandano un pochino. Però sicuramente sono delle bellissime esperienze, però per capire, no? Tu parlavi di all'essere tuo spartano, ecco, quindi quando vai ad organizzare dei viaggi per altre persone, questa spartanità, concedetemi il termine, si ritrova in questi tuoi viaggi oppure è una cosa un pochino più comfort? E rispetto comunque a un equilibrio, ecco, perché mi rendo conto che non tutte le persone piace fare un viaggio di gruppo dove poi devono magari alloggiare in una guest house che non è tanto carina o in un cottage che magari è un po' sporco, ecco. Quindi io cerco di trovare un equilibrio tra prezzo e qualità, ovviamente, per far stare e far vivere meglio l'esperienza alle persone che partecipano ai viaggi di gruppo, perché poi alla fine io sono uno di quelli che, ok, il viaggio spartano, ok, va bene l'esperienza, però il posto dove alloggi la sera, soprattutto se stai in giro tutto il giorno, e fa freddo, e magari la neve, magari i vecchi in Islanda che c'è vento e che pioggia forte, l'alloggio fa la differenza, cioè, vuole un minimo di comfort per far stare bene, far vivere l'esperienza meglio possibile alle persone che vengono con te. Assolutamente, quindi, guarda, io di comfort vorrei continuare a parlare dopo, non abbiamo tantissimo tempo, ma lo collego un po' a tutti questi viaggi, tu hai parlato di tre viaggi in particolare, quello in Islanda, quello, il famoso cammino di Santiago, e la Via della Seta, tutte e tre, insomma, se non sei una persona un po' amante dell'avventura, dal punto di vista proprio di scoprire, ecco, anche alloggi spartani e queste cose qua, penso che non si possa fare, e ho letto un libro di una persona che sicuramente conoscerai tempo fa, che si chiama Human Safari, Nicolo Balini, che ha scritto un libro meraviglioso proprio sul cammino di Santiago, quindi dopo ti voglio chiedere un po' della tua avventura, proprio dal punto di vista di come si passa dalla Francia alla Spagna, di tutti i timbri, se vuoi, rimani con noi, nel frattempo ci mischietta, finimondo. se ne è quasi volata via la prima mezz'ora del World & Travel qua su RTL 125 News, ancora un buon lunedì sera, tutti voi collegati qua in Radiovisione al 737 di Sky, o la versione audio del digitale terrestre, canale 233, ultima parte di chiacchierata insieme al nostro Andrea Gallo, e Mariano, avevi una curiosità da levarti riguardo al cammino di Santiago, mi pare. Beh, sì, il cammino di Santiago parte praticamente dai Pirenei, giusto, dalla parte francese, poi si scavalla, si va in Francia, poi si finisce a Finisterre, in realtà si finisce a Santiago del Compostela, però se uno lo vuole fare in maniera corretta, dovrebbe finirlo a Finisterre, dove c'è proprio una grande pietra che dice insomma quello è il chilometro zero, ecco. Tu come l'hai vissuto, soprattutto come hai vissuto oltre gli spostamenti, che sono tostissimi, ma come hai vissuto i vari posti, nel senso ti sei organizzato, li hai trovati lungo il posto, non lo so, dici un po' tutto, come ti sei trovato nei vari posti, dove poi sei andato a riposarti, a rifocillarti. Beh, hai detto tutto. Mi sono molto adattato, diciamo che non è semplice affrontare il camion di Santiago quello francese, che appunto la Saint-Jean-Pie-de-Pau raggiunge Santiago in 800 chilometri, poi vabbè se vuoi raggiungere la famosa pietra a chilometro zero devi farne altri 100, e non è facile perché tu cammini tutti i giorni, poi ti ritrovi magari in ostelli, e quindi incamerate da 20-30 persone, quindi ci vuole spirito di adattamento, però poi dopo ci fai l'abitudine. Io mi sono trovato bene, a me è molto piaciuta come esperienza, mi ha fatto crescere, mi ha insegnato tantissimo, mi ha fatto conoscere ogni giorno persone nuove che mi hanno insegnato tantissimo, mi sono affidato completamente alla vita, insomma, alla provvidenza, come dico io, e sono successe cose incredibili tutti i giorni, per esempio te ne dà conto un paio, un giorno, dopo quattro giorni non ce la facevo più a camminare, perché non avevo le racchette, insomma, da trekking, non avevo un bastone, e ho incontrato un'amica mia, ho incontrato tipo il primo giorno con cui ho fatto conoscenza, e lei mi vede per strada, che stavo proprio male, mi sfotti, mi inizia a dire, non ce la fai più a camminare, e faccio, no Miriam, lasciami stare, non sto in vena, perché mi serve un bastone, non riesco più a camminare, e fa lei, qual è il problema, ti do il mio, e tanto ce ne ho due. Ah bello, bello perché, secondo me, siamo in chiusura, Andrea, giusto per salutarci poi, però tanto, lo dico già, ci ritroveremo, visto che sei in partenza per gli Stati Uniti, e quindi ci ritroveremo poi più avanti, sicuramente a fare un'altra bella chiacchierata, non bisogna essere religiosi per forza, per fare il cammino di Santiago, questo è un po' quello che stiamo capendo, il cammino ti insegna anche a ritrovare una spiritualità con te stesso, e tanto umanità. Ti ringraziamo davvero Andrea, per esserci venuto a trovare, e averci raccontato con passione i tuoi viaggi, grazie mille Andrea. Ciao a voi ragazzi, grazie mille. Ciao Andrea, buona serata, e alla prossima, buon viaggio. Bene, questa era la fine dell'intervista, se siete arrivati fino a questo punto, commentate con da paura, ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao, vaiù.